Viene riconsegnato alla città di Chieti il ritratto di Costantino Barbella, lo scultore teatino al quale è intitolato l'omonimo Museo di Chieti. Il dipinto fu eseguito dall'amico Francesco Paolo Michetti sul finire dell'Ottocento e ritrae lo scultore, che apparteneva insieme a D'Annunzio, Tosti e Di Nino, al gruppo degli artisti che frequentavano il Cenacono Michettiano di Francavilla al Mare. Oggi sarà oggetto di un restauro che potrà essere seguito dal vivo nei giorni 7, 10 e 11 febbraio su prenotazione all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Abbiamo nei mesi scorsi messo in campo questa importantissima sinergia istituzionale con una convenzione tra noi come Comune di Chieti e l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. In questi mesi si è tramutato il nostro museo in un vero e proprio laboratorio per gli allievi dell'Accademia che già oggi con i docenti e con la direttrice ci hanno riconsegnato l'opera più significativa che è proprio il ritratto di Costantino Barbella, restaurata, nonché stanno facendo un grandissimo lavoro di ricatalogazione di tutte le opere, oltre che di restauro conservativo, e anche di messa in sicurezza di tutta un'altra serie di opere che erano abbandonate nei magazzini del nostro museo. Sarà possibile per le scuole venirci a visitare, anche per il pubblico comune. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di far conoscere, di far apprezzare ai giovani l'intervento di restauro. Che cosa significa il restauro, chiacchierare con loro e spiegargli mentre veramente lavoriamo, che cosa significa portare a termine una cosa così importante. L'Accademia ha due corsi di studio, uno sul settore architettonico, uno dei beni mobili e appunto dei beni dipinti. Pertanto sarebbe molto interessante un confronto diretto e anche una maniera per spiegare, per far capire che ormai è una professione riconosciuta, una professione che ti dà una laurea, che ti mette immediatamente nel mondo del lavoro, perché i nostri allievi, soprattutto nel territorio dell'Aquila, stanno lavorando tutti nei cantieri.